Buongiorno, sono Michele Di Sanno, il direttore artistico della Fiera della Fotografia. Ho il piacere di invitarvi a questo evento che si sta dimostrando storico, davvero grande, organizzato da due imprenditori davvero coraggiosi che sono Fabio Carrasca e Franco Laponte. Insieme a Mimo Basile stiamo lavorando con loro a questo grande progetto e stiamo vedendo dei risultati che neanche potevamo immaginare. Siamo felicissimi di vivere. Quindi vi invito dal 22 al 24 marzo a Caserta in un'area espositiva che sarà enorme, sono circa 8.000 metri quadri, in cui ci saranno espositori di diversi brand da tutta Europa per il settore fotografico. È aperta a professionisti, ad amatori, infatti siamo tutti amanti della fotografia, perché come dice anche il concorso fotografico che ci sarà all'interno della fiera, è un concorso sia foto che pubblico. Ci saranno delle mostre molto interessanti che potranno ispirare tutti i partecipanti e a me con dei relatori di fama internazionale che ci parleranno insomma del loro percorso professionale e di vita per poter dare spunti di riflessione a una platea così ampia e basta. Siamo oltre 10.000 registrazioni e per questo mi siamo davvero grati, perché la fiducia che state avendo in questo evento ci sta pagando tantissimo il lavoro che stiamo facendo. Abbiamo organizzato anche dei trasporti molto comici perché oltre a un parcheggio enorme per chi vuole aprire macchina sarà comodissimo arrivare in treno in cui dalla stazione di Napoli o di Caserta gli organizzatori hanno previsto anche dei bus navetti gratuiti in modo da rendere tutto più fluido, accessibile, piacevole come esperienza. Tra gli ospiti, a mio piacere di avere il regista, la creatrice della fotografia, il montatore della serie di successo Marefori, venite a vivere questa esperienza che non ha simili e quindi vi aspetto tutti numerosi alla fiera della fotografia dal 22 al 24 marzo.